Questione macerie, il mistero si infittisce. Il sindaco Cialente stamane è partito alla volta della capitale per chiarire la situazione. Secondo una proposta di ordinanza, infatti, sulle macerie il comune dell'Aquila e la provincia rischiano il commissariamento su questo e non avrebbero più poteri. C'è una proposta di ordinanza, se dovesse parlare a stare, io ve la vorrei far vedere, in cui non compare mai, ci sono due parole che non compaiono mai, cioè ci sono tutte le parole del mondo, anche sul quadro con le due Q, e mancano solo due parole, comune o comuni e provincia. Quindi è un commissariamento totale. Altro affondo anche sulla richiesta di assumere otto persone che si occupino di comunicazione nella struttura commissariale. Otto persone per comunicare che, dice il sindaco? La domanda del 100 pistole è, ragazzi, otto persone per comunicare che? Che non si va a fare niente da un anno? Alcuni soldi della legge mancia del PD andranno alla ristrutturazione delle scuole del comune, alcuni spazi saranno per i giovani e per il sociale. Abbiamo chiesto al sindaco allora cosa intende fare per l'asilo di Viale Duca degli Abruzzi, attualmente occupato da alcuni comitati e movimenti. Uno spazio che deve essere a disposizione di tutti i cittadini, dice il sindaco. I ragazzi possono rimanere lì queste associazioni? Guardi, la prima cosa è che se dovesse essere agibile, a questo punto, o rapidamente messo in condizione di tornare a essere agibile, quello diventa uno spazio però che appartiene a tutta la città, non solo ai giovani. Sarebbe difficilissimo nella ricchezza, anche se mi piacerebbe molto, nella ricchezza di associazioni, di iniziative, di gruppi che ci sono, se ciascuno ne potesse avere uno. Sarà uno spazio a disposizione di tutti.